Ciao sono Luca e in questo video ti illustrerò un piccolo segreto per aumentare la massa muscolare in maniera efficace e definitiva. Si tratta di un piccolo segreto che se applicato con costanza può realmente fare la differenza. Non è assolutamente nulla di complicato o di difficile, anzi è una cosa per molti versi molto intuitiva. In cosa consiste? Beh sicuramente se ti alleni regolarmente avrai già il tuo percorso di allenamento stabilito. Magari utilizzerai il metodo Butterfly, magari non lo utilizzerai, comunque avrai già una tua scheda spiero personalizzata che ti permette di allenarti con costanza, quindi saprai di giorno in giorno, di volta in volta come appunto allenarti, cosa allenare. Il mio suggerimento è una volta alla settimana di cambiare radicalmente tutto, quindi di uscire dagli schemi preimpostati del tuo allenamento, di uscire da questo binario rappresentato dalla tua scheda di allenamento e di fatto cambiare radicalmente tutto. Quindi ad esempio prendere un gruppo muscolare o due gruppi muscolari e allenarli in maniera del tutto istintiva, senza usare schede, senza contare le serie o le ripetizioni. Proprio come faresti nel caso tu andassi a giocare a calcetto con gli amici, non conti quanto giochi, ma semplicemente ti godi il momento, il mio suggerimento è di fare lo stesso per un discorso di allenamento. Quindi una volta alla settimana o se hai già buoni risultati puoi anche farlo due volte al mese, quindi una volta ogni due settimana, prendi magari come esempio un gruppo muscolare che è un po' più indietro rispetto agli altri e quello che andrai a fare sarà allenarlo, magari anche solo con un esercizio che senti molto efficace, con un numero di serie di ripetizioni veramente molto alto o comunque senza contarle, quindi in maniera del tutto istintiva. Quindi ad esempio se senti che i tuoi polpacci sono un po' indietro rispetto agli altri, quello che andrai a fare sarà utilizzare ad esempio il calf raises, in questo caso potrai fare addirittura una mezz'ora, se non addirittura un'ora soltanto di calf raises. Questo ovviamente esce un po' dalle classiche logiche molto razionali dell'allenamento, che poi avrebbero appunto un certo numero di serie di ripetizioni per stimolare l'ipertrofia, ma siccome il corpo non ragiona in questi termini, ma siamo noi a ragionare in questi termini, quindi il corpo di fatto risponde agli stimoli che gli dai, se tu puoi veramente scioccarlo, infatti in inglese si chiama shocking principle, quindi se puoi veramente scioccarlo, quindi sconvolgerlo con uno stimolo totalmente diverso, ad esempio poco peso con tantissime ripetizioni e con un solo esercizio, un solo gruppo muscolare, sicuramente avrai incredibili benefici e magari ti troverai davvero la carne greve, quella che viene definita in gioco carne greve o i DOMS in senso un po' più scientifico, per i giorni successivi, quindi prendi un gruppo muscolare che magari è rimasto un po' indietro e per una volta a settimana o se i risultati sono già buoni per due volte a settimana, colpiscilo veramente in maniera molto efficace e molto aggressiva, con grinta, in maniera del tutto intuitiva, quindi un gruppo muscolare, un esercizio, un numero di serie di ripetizioni senza contare e addirittura puoi anche andare a tempo, quindi ti dai, non so, i polpacci sono un po' indietro, io il venerdì, questo venerdì voglio allenare solo i polpacci, faccio solo calf raises per mezz'ora, parti con un peso basso, poi magari lo aumenti, poi lo riduci, poi lo aumenti e il tuo unico navigatore in quel caso sarà appunto i muscoli stessi che ti diranno magari urlando per il dolore cosa fare e cosa non fare, quindi in base a come rispondono aumenterà il peso e lo diminuirai. In questo modo, ripeto, a prescindere che siamo appunto al di fuori di ogni logica razionale e scientifica per un discorso di allenamento impostato in maniera corretta, avrai comunque un grandissimo shock ai tuoi polpacci, i quali non avranno altra scelta che crescere. Questo ovviamente si applica a un qualsiasi gruppo muscolare che magari è rimasto indietro, quindi il mio suggerimento è una volta alla settimana o due volte al mese rendi il tutto un po' più intuitivo, un po' più pazzo, anche un po' più meno razionale, e questo ti permetterà non solo di avere maggiori risultati, ma anche di rendere il tutto meno monotono, e perché no, magari così facendo potresti scoprire anche che il muscolo stesso risponde bene ad un qualche tipo di esercizio, comunque avere qualche consapevolezza maggiore relativamente al tuo corpo. Questo era un po' quindi il suggerimento, fallo tuo perché sicuramente sono sicuro può realmente fare la differenza. Come sempre ti aspetto su Facebook e se vuoi maggiori informazioni sui miei servizi, puoi contattarmi in ogni momento. Ciao!